Musica Ricomincia col nuovo anno l'attività del Polibus, la navetta che trasporta gratuitamente gli spettatori nei teatri convenzionati della città. In effetti la sua chiamata mi ha conto di sorpresa. A Sala Icos, nel quartiere di San Giovanni, sabato 19 e domenica 20, lo spettacolo Visite, con la regia di Nico Mucci, ispirato ad appuntamento a Londra dello scrittore peruviano Mario Vargas Iosa. Un sorprendente incastro di relazioni, di bugie e di colpi di scena. Al teatro area nord di Piscino la fino a domenica 20, la vivace commedia di Carlo Goldoni, Gli Innamorati, riscritta in chiave contemporanea da teatro Insania. Quattro attori per nove personaggi, ciascuno mosso da una diversa forma d'amore. Grazie. 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 Grazie.